Un'esperienza bellissima, sono orgoglioso di giocare per la mia nazionale, quindi è sempre una cosa bella. Ovviamente siamo contenti del punto che abbiamo fatto e noi ora guardiamo avanti che ora ci sono tanti partiti in campionato che dobbiamo fare bene e ora sono concentrato qua. Sì, è una partita che ci teniamo a fare bene, vogliamo continuare la bella prestazione contro il Foggia, penso che la squadra sta bene, anche se non c'ero settimana scorsa ho sentito che hanno fatto dei belli allenamenti, la squadra sta preparando nel migliore dei modi, oggi la ripresa e cercheremo di fare una bella partita. Conosciamo bene Livorno, anche se c'erano tanti giocatori fuori, sarà un Livorno diverso. Noi lo prepariamo sempre al solito, come lo facciamo con ogni partita, ogni partita è diverso, però come l'ho detto, noi vogliamo fare i punti e continuare sulla strada che abbiamo fatto contro il Foggia. Sappiamo tutti che la Serie B è molto difficile, ci sono squadre che si difendono bene, squadre che attaccano bene, noi dobbiamo essere equilibrati sempre, giocando fuori e giocando in casa, dobbiamo cercare di fare i più punti possibili e come l'ho detto, magari la squadra non si è vista benissimo contro il Cittadella, però ha avuto la personalità e le qualità di fare una grande prestazione contro una squadra forte come il Foggia. Grazie. 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 Grazie.